Andiamo a vedere il caso in cui una docente è inserita nelle gradatorie GPS oltre che per classi di concorso come a 0.54, a 0.60, a 0.08, a 0.16, a 0.17, a 0.37, anche nella prima fascia ADMM. Dunque tra gli insegnamenti c'è la prima fascia. Intanto per vedere a quale fascia appartengono questi insegnamenti bisogna andare nello step numero 2 a vedere come il docente è incluso nelle gradatorie. Come vedete abbiamo una prima fascia di ADMM. Quindi in questo caso avendo una prima fascia di ADMM il docente potrà compilare la sezione riferita al ruolo. E quindi qual è la sezione riferita al ruolo che andrà a compilare in prima istanza? Chiaramente è inserito anche in seconda fascia in molte delle classi di concorso e sarà anche inserita nella gradatoria incrociata per il sostegno delle scuole superiori. In quanto ha delle classi di concorso come la prima frattuta e la 0.08 che dà accesso alla seconda fascia che consente al docente di essere valutato incluso nelle gradatorie incrociate. Detto questo andiamo a vedere il requisito. Il possesso del requisito è un'autodichiarazione che va compilata e che il docente deve compilare. Vedete qui dice il sottoscritto dichiara di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia GPS di cui all'articolo 4,6 bis della legge 124.99. Che significa a pieno titolo senza riserve per cui questa dichiarazione del possesso dei requisiti non lo potranno compilare coloro che hanno un titolo di sostegno conseguito all'estero con richiesta di riconoscimento ma ancora non riconosciuto perché non sono inseriti a pieno titolo. A pieno titolo sono inserite tutte le persone che non hanno una riserva e non hanno un contenziosinato e non hanno una situazione diciamo particolare ma hanno svolto il TFA di un ciclo di sostegno. Hanno acquisito la specializzazione e adesso si sono inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS. Così possono compilare quindi questa sezione questo step indicando di avere il titolo e dunque di poter essere assunti ai sensi dell'articolo 4,6 bis della legge 124.99 per i posti di sostegno. Si salva questa operazione salvataggio di creazione del possesso dei requisiti eseguito con successo e si può passare quindi alla compilazione delle preferenze ai fini del ruolo per un contratto sempre a tempo determinato però ai fini del ruolo pubblico. Grazie 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 Grazie